Desidero inviare il mio saluto ai giocatori, ai tifosi e agli spettatori che seguono da vari continenti i campionati mondiali di calcio, che si stanno giocando in Qatar. Possa a questo importante evento essere occasione di incontro e di armonia tra le nazioni, favorendo la fratellanza e la pace tra i popoli. Preghiamo per la pace nel mondo e per la fine di tutti i conflitti. Preghiamo per la fine di tutti i conflitti.